Pizzacotta a legna, degustibus, osteria, lounge, beer, terrazza all'aperto, avvigliato circuito Birchens, altri, in via della Repubblica 56, prenotazioni all'azienda 7-7-8-8-10-93, su semartidino. Spazio, in via di Pizzacotta, centro spedizioni, efficace alternativa ai servizi postali tradizionali, a Gaeta e via in ripendenza 140. E qui vediamo una novità incredibile, questa era via Gramsci, l'hanno cambiata in via Montetortone 22. Questo è un abuso, secondo noi la commissione non si è mai riunita, si è riunita per intitolarla Gramsci, di quando io ero il presidente.